Tirate per la giacchetta più volte in questi ultimi tempi, le comunità aquilane che accolgono minori stranieri non accompagnati non ci stanno e per la seconda volta intervengono per dire la loro. L'occasione è stato l'ennesimo fatto violento, l'accoltellamento a un giovane di 21 anni nella zona delle scuole di Colle Sapone, ad opera di un minore di 16 anni marocchino, ma non riconducibile alle comunità e per questo non ci stanno. Troppo facile l'equazione minore straniero comunità. Tra l'altro il responsabile della comunità Crescere Insieme spiega che loro fanno molte attività, cercano sempre di collaborare con le forze dell'ordine, ma purtroppo ci sono fenomeni di marginalità importanti e molti ragazzi sono soli, non vivono in comunità né in famiglia. Noi siamo i primi ad essere interessati che ci sia una tutela dell'ordine pubblico e della guida pubblica. Purtroppo però non possiamo rispondere delle azioni di ragazzi che non sono nel circuito dell'accoglienza e che quindi non sono collocati presso di noi. Verso i quali i nostri professionisti, assistenti sociali, psicologi, educatori non possono appunto mettere in opera nessun intervento perché sono ragazzi o collocati o che vivono nelle loro famiglie oppure sappiamo che ci sono anche persone che vivono all'addiaccio, che vivono alla meglio e per le quali sicuramente bisogna fare qualche cosa. C'è bisogno dell'aspetto repressivo delle forze dell'ordine con le quali noi collaboriamo costantemente, ma anche e soprattutto di un esercito di educatori di strada che intercettino questo disagio e cerchino di veicolarlo e di fare in modo che episodi di questo tipo non avvengano più. Grazie.